Alla vigilia della delicata sfida interna contro il Matelica, il Campobasso rimane concentrato, ma anche estremamente vigile sul mercato prossimo alla riapertura. Alle viste ci potrebbe essere un'autentica rivoluzione in seno all'organico rosso-blu. Tra mercato in entrata ed operazioni in uscita, il Campobasso di dicembre potrebbe avere davvero tutto un altro volto. La società non è affatto contenta del rendimento avuto finora dagli attaccanti, Ingretolli e Gurma nello specifico, che potrebbero essere destinati a fare le valigie. Discorso identico, vale pure per qualcuno che compone la difesa e che almeno per ora ha reso al di sotto delle aspettative. Di nomi se ne fanno tanti in entrata, anche di un certo tenore per la quarta serie. Tra questi il centrocampista della Vibonese, Raffaele Vacca, e quello, tuttora al Taranto, Davide Corso, classe 92. Nomi su cui la società avrebbe messo gli occhi addosso, ma ogni ufficialità in merito è rimandata agli inizi, di dicembre. Prima di qualsiasi metamorfosi, grande o piccola che possa essere, c'è da affrontare il Matelica Selvapiana. I numeri parlano davvero chiaro. Oltre ai punti, che sono tanti, 34, la capolista vanta il migliore attacco con 31 reti segnate. E la migliore difesa, bucata soltanto 8 volte in 13 giornate. La società nelle persone dei presidenti Leone e De Lucia è molto motivata per domenica. L'obiettivo è quello di provare a battere un Matelica proveniente da ben sette vittorie consecutive. La presidenza ha voluto anche distendere l'ambiente, corrispondendo ai giocatori un'altra mensilità proprio nella giornata di ieri, e legando un premio ad un'eventuale vittoria domenica del Campobasso contro i primi della classe. Testacoda fra Fabriano e Pesaro con il pronostico che pende dalla parte degli ospiti, mentre sembra duro l'impegno in trasferta della terza lavastese sul campo del Francavilla. Derby a pochi chilometri, l'una dall'altra. Agnionese-Jesina deve valere assolutamente una vittoria per gli altomolisani, che dall'inizio della gestione di Meo stanno facendo fruttare abbastanza le gare a domicilio. I sette punti della nuova parentesi tecnica, infatti, stanno derivando tutti da partite interne. L'Olimpia dovrebbe presentarsi in formazione tipo, per intenderci la stessa, che ha trovato la sconfitta negli ultimi minuti della sfida di Pesaro. L'attacco potrebbe essere affidato a Medi, Santoro e Margarita. Per quest'ultimo un solo gol e ben tre traverse. Evidentemente la fortuna non sta assistendo troppo l'ex attaccante, fra gli altri anche del San Nicolò. Anche a Pesaro, Di Meo ha provato Di Lollo al centro della difesa insieme all'Itterio, mentre la maglia numero quattro del mediano era sulle spalle di Cassese. Di Meo dunque cerca anche soluzioni alternative, in attesa che il mercato fornisca i rinforzi più adatti a condurre l'Olimpia al riparo da brutte sorprese.